a salve a tutti ragazzi belle brutti iscritti minuti bentornati su giovi hd spot io sono di risposta ed eccoci qui account con qualche credituzzo con qualche partita fatta per presentarvi la nuova serie ovvero neymar road to brasil ve l'avevo accennato ve lo sto per portare inizierò dalla divisione in 10 costruirò un brasile con neymar come punto focale partendo da giocatori argento e quindi se avete i nomi di giocatori argento da consigliarmi consigliatemeli io me li sono scritti alcuni però vorrei anche un vostro parere vorrei che voi mi diceste lasciando un commento qui sotto in descrizione quale giocatore dovrei acquistare argento naturalmente senza sporare il budget questa serie non avrà regole e quindi sarà come una serie normale come se io dovessi partire da zero però solo avrò neymar solo di giocatore forte volevo ricordarvi che se avete bisogno di crediti basate dal link qui sotto in descrizione fifa coinzone sono veloci buon prezzo e con il codice coupon giovispo avete il 3% di sconto qui intanto stiamo sul 2-0 cazzo doppietto di Fletcher poi arriva anche questo gol di Nardiello mi sono preso Nardiello mi ha fatto davvero un bel po' di lotto poi vabbè tutto nel primo tempo si recuperano due gol poi c'è anche il terzo gol e si passa in vantaggio cazzo poi c'è anche il quarto gol con quel bel bel tiro veramente di Baxen vabbè a 56esimo il mio avversario quitta non c'era più storia ormai avevo rimontato due gol e avevo passato due gol in vantaggio avevo fatto quattro gol in 15 minuti di gioco veramente ho fatto un casino di tiri possesso prima partita ha vinta va da rinominare il club lo chiamo Neymar Road Brazil iniziavo dai giocatori argento come ho già detto ho lasciato un commento qui sotto qui con qualche nome argento per ora penso di fare tipo di fare tutta la rosa argento con Neymar e anche i panchinari e le riserve argento quindi questa è la seconda partita di Svulzerati del mio avversario più o meno avevo capito che non c'è la storia quindi già si arrende già si non dava saltiamo avanti andiamo avanti questa partita abbiamo quello nigeriano in attacco vabbè il primo gol arriva con Neymar che ha 5 stelle piede debole 5 stelle mossabilità è davvero foxto Neymar secondo me se non avesse avuto 80 di tiro e le 5 stelle mossabilità e piede debole non sarebbe costato 138k prezzo che ora si è abbassato veramente con Neymar approfitta delle cagate difensive è in sacca dopodichè si blocca il gioco mi dà la vittoria perché non so forse se sarà reso neymar di nuovo migliore in campo 3 a 1 altra vittoria altri 3 punti siamo arrivati a 6 punti 2 vittorie nella prossima fase incontriamo questa squadra il primo gol arriva con con Bax Bax non so come si dica vabbè poi arriva anche il gol con Neymar che di sinistro di destra lo mette sempre dentro al ventesimo minuto il mio avversario quitta anche questo è il terzo che qui se non il quarto mi sa il quarto che quitta vabbè 2 a 0 altri 3 punti ci arriva a 12 punti quindi a 9 punti scusate sto un po' fuso stamattina si arriva a 9 punti promozione tenuta ora abbiamo al titolo il primo gol arriva con l'avversario che è approfitto di queste distrazioni difensive però arriva anche il gol di dell'autogol scusate mi ero scordato arriva anche l'autogol cazzo autogol poi arriva anche il gol di Shashamed con questo bel passaggio affiltrante arriva anche un altro gol della merda però vabbè volevo vincere dai ragazzi chi non ha mai fatto un gol la merda diciamoci qua un bel gol di Miller qua arriva anche questo bel gol di Neymar veramente ha fatto ne avrà fatto già 6 gol non so come partire qua anche Nardiello Nardiello mi ha veramente sorpreso onestamente parlando non pensavo che fosse così forte quel bronzo vabbè 2000 credit ottenuti andiamo a comprare il portiere che ci serve per forza Fabiano è un mostro è alto sono davvero contento di aver preso questo qui poi andiamo ad acquistare Ari che è veramente forte di testa dovrebbe avere un 80 non lo so dovrebbe appare in un'estate 78 79 di testa l'ultima parte ti incontriamo questa qui con Del Piero il primo gol arriva con Neymar grazie a un rimballo sul terreno poi arriva anche questo bel gol di Ari al 26esimo arriva anche questo bel gol bello con il vestire fuori dai pali bel palonetto a scendere un bel effetto il 35esimo il mio avversario subito dopo quitta rage quitta anche questa partita finisce senza senza che si sia giocata completamente era la prima partita della divisione 9 quindi questa è la nuova serie se vi piace lasciate un bel pollicione su arriviamo a 40 mi piace per il prossimo episodio iscrivetevi al canale se siete già iscritti rimanete sottolineati sulla pagina facebook perché vi aspetta il pink slips arriviamo lo ripeto arriviamo a 40 mi piace per il prossimo episodio commentate con il giocatore argento iscrivetevi al canale se siete già iscritti qui è JoeySpo vi saluto e vi ringrazia ci vediamo domani con un nuovo video ciao e bella a tutti